Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano 3 chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e un chilometro di coda invece in direzione Firenze. Rimaniamo in FIPILI dove a causa di un veicolo in avaria si segnalano 2 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E chiudiamo proprio con i cantieri della città di Firenze per lavori di consolidamento a un muro di sostegno, restringimento di carreggiata con senso unico alternato e rallentamenti in via Bolognese all'altezza di Villa Finali. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!